Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo tutorial di No Man's Sky per quanto riguarda il building e quello di cui parleremo oggi è il Reverse Wire Glitch prima di tutto vi dico grazie e grazie davvero tanto per i commenti che ho ricevuto e spero che anche questo video vi sia utile per quanto riguarda la costruzione su No Man's Sky allora, bando alle ciance, Reverse Wire Glitch, che cos'è? il Reverse Wire Glitch è un'evoluzione fondamentalmente del Wire Glitch dove noi utilizzavamo il filo per andare a posizionare all'interno della scena gli elementi che almeno una volta erano, diciamo il gioco ci rappresentava come verdi quindi potevamo inserire e quella diciamo era l'unica caratteristica del Wire Glitch che dovevamo rispettare l'unica regola, se non avete visto il video ve lo lascio in descrizione il Reverse Wire Glitch invece non rispetta quella regola cioè non importa in quale stato, rosso o verde, il gioco ci presenta un determinato oggetto con il Reverse Wire Glitch è possibile inserire all'interno della scena qualsiasi elemento ora, facciamo subito un esempio e andiamo a vedere subito nella pratica che cosa significa andiamo a prendere, per fare un esempio molto più, diciamo così si capisce meglio un elemento che sicuramente io non potrei andare a inserire perché diciamo all'interno della scena il gioco non mi darà mai in questo momento il verde sopra questo oggetto del rifugio marino che ha bisogno di essere costruito sott'acqua attraverso il Wire Glitch io posso effettivamente inserirlo all'interno della scena e concatenarlo anche ad altri elementi. Allora intanto dal punto di vista meccanico vediamo cosa andiamo a fare la prima parte viene presa dal Wire Glitch quindi andiamo con tastiera Control su altre piattaforme funziona con le dovute cambio di pulsante però con la tastiera Control andiamo sul nostro menu in cui troviamo il filo dopodiché andiamo a collegarlo su qualsiasi elemento che abbia un cablaggio all'interno di No Man's Sky e dopo di che andiamo a puntare o a selezionare il punto in cui noi vogliamo inserirlo che deve essere per forza un altro elemento con il cablaggio quindi se volessi inserirlo qui basta rilasciare Control più o meno simile al Wire Glitch Wire Glitch Control e tasto sinistro le tempistiche di questa azione sono diverse da quelle del Wire Glitch e sono diverse ancora dal Glitch di prossimità quindi bisogna fare un pochettino di pratica per prendere giusto il tempo per glitcharlo diciamo alla perfezione però dopo un po' diciamo che diventa quasi automatico soprattutto se ne fate parecchio all'interno della vostra costruzione ecco come abbiamo potuto vedere andiamo a cancellare magari il filo così si vede meglio abbiamo glitchato all'interno di un oggetto l'oggetto che volevamo inserire in questo caso era questa pianta qua e quindi l'ha glitchato diciamo alla perfezione in base alla posizione in cui era l'oggetto iniziale quindi la lampada abbiamo inserito questo oggetto che solitamente non potremmo mai inserirlo se non abbiamo dell'acqua se avessimo avuto dell'acqua potevamo utilizzare anche il Wire Glitch però il Reverse Wire Glitch diciamo lo lega strettamente alla posizione in cui noi abbiamo collegato il filo una caratteristica importante da tenere sotto controllo è proprio la disposizione dell'oggetto perché se io volessi inserire faccio un esempio e qui lo stesso elemento ho fatto già la prova vediamo qua vedrete che quello che ottengo è una cosa completamente diversa ovvero è come se io ho agganciato questa cosa qua al contrario ora questo comportamento in realtà è calcolabile cioè noi potremmo sapere in che direzione andrà e come facciamo a scoprirlo? lo facciamo vedendo e notando che sotto o comunque nei pressi dell'aggancio dei sistemi di cablaggio c'è una lucina questa lucina indica la posizione in cui verrà glitchato l'oggetto che vogliamo inserire e lo indica al contrario o meglio noi sappiamo per certezza che l'oggetto che andremo a glitchare sarà glitchato in posizione diciamo superiore quindi rispetto alla lucina quindi se la lucina è nella parte inferiore l'oggetto sarà glitchato nella parte superiore se la lucina è inferiore come non so se potete notare qui con no ho fatto un esempio sbagliato vediamo una parte esattamente questo se la lucina è nella parte superiore l'oggetto sarà glitchato al contrario per questo le prove che abbiamo fatto risultavano esattamente al contrario un'altra cosa da tenere a mente è che l'oggetto verrà glitchato al centro dell'oggetto esattamente dov'è la lucina quindi se la lucina è qui esattamente all'aggancio cioè se l'aggancio è qui io so per certo che l'oggetto che voglio glitchare avrà come centro l'aggancio ok quindi questo ci permette soprattutto con con le luci con le lanterne qua ci permette di posizionare la lanterna precisamente nel punto in cui noi vogliamo agganciare l'oggetto ok e cosa ci permette di fare oltre a questo ci permette di aggiungere più oggetti nella stessa posizione cosa molto interessante perché se vi ricordate il wire glitch una volta che noi andiamo a posizionare l'oggetto oggettivamente cioè quando tu andrai a inserire un altro oggetto nella stessa posizione in realtà viene sopra l'oggetto che hai messo prima invece in questo modo l'oggetto di riferimento cioè il punto di riferimento è l'aggancio del cablaggio questa cosa qua ci permette di fare determinate cose di matchare insieme alla perfezione determinati oggetti ora abbiamo fatto l'esempio prima e abbiamo visto che collegandolo a questo diciamo alla batteria quello che otteniamo è che l'elemento che andiamo a posizionare è al contrario perché la lucina è verso l'alto ok quindi che cosa ho fatto ho messo un'altra batteria collegandola in questo punto e lui me l'ha glitchata al contrario facendo così quello che ottengo è un oggetto con quattro agganci come la batteria però con la lucina è rivolta verso il basso il che significa che posso glitchare gli oggetti dal basso verso l'alto e direte vabbè ho capito ho scoperto l'acqua calta la cosa figa di questa roba qua è che se io vado a glitchare l'oggetto ora vediamo se ok se io vado a glitchare l'oggetto nelle varie posizioni perché rimangono gli agganci l'oggetto che noi andiamo a glitchare è perfettamente allineato all'interno dei quattro dei quattro punti se riusciamo a collegare pure questo troppo le tempistiche sono abbastanza una rottura però ci dobbiamo fare un po' l'abitudine ora ho fatto questo esempio qua è inutile inserire il quarto però vedete che sono perfettamente collegati proprio perché sono simmetrici proprio perché i punti di aggancio sono simmetrici della batteria e quindi questo ci permette di fare composizioni che si miscelano tra di loro alla perfezione senza dover selezionare questo ci permette di fare cose molto molto interessanti addirittura di mettere nella stessa posizione gli stessi oggetti cioè se io aggancio questo qui ok fondamentalmente lo posso lo posso rifare quante volte voglio ok ora in questo momento nella stessa identica posizione noi abbiamo due di due depositi ok la cosa veramente interessante viene utilizzata molto sui depositi ho fatto così una parte della della mia della mia farm la cosa molto interessante è che se io collego questo un deposito a un altro deposito che diciamo che ora qui non ne ho però li collego è come se visto che sono esattamente nella stessa posizione è come se fossero tutti collegati già in automatico quindi io basta collegare questo qui a un altro deposito e vedete che la somma non è due cioè un deposito più un altro deposito ma è tre cioè due che sono questi depositi qui e poi un terzo e questo funziona ovviamente anche con gli estrattori questa è una cosa molto interessante cioè io posso concatenare tutti questi estrattori nello stesso medesimo punto e avere una farm come quella che ho fatto io di 100k all'ora nella stessa posizione io ho miscelato all'interno della stessa posizione tutti questi estrattori e poi ho collegato un estrattore all'energia al cablaggio e bla 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 e io ho praticamente una farm fatta da un unico estrattore dal punto di vista visivo dal punto di vista di gioco in realtà ce ne sono centinaia cioè centinaia no decine all'interno il che vuol dire che lagga anche parecchio quindi queste qua sono le regole fondamentali che diciamo che governano un po' il reverse wire glitch e che ci permettono di fare determinate cose molto interessanti aspetto molto particolare sono le luci quelle lì in diciamo quelle piane e se notate anche loro hanno gli agganci ovviamente e gli agganci possono essere girati perché loro possiamo diciamo ruotare l'oggetto e quindi vediamo che qui è in una posizione a destra una a sinistra una diciamo sopra per quanto riguarda la prospettiva e uno sotto ciò vuol dire che se io andassi a collegare diciamo ad un oggetto del genere attraverso il wire glitch ora andiamo a prendere uno che si vede si vede bene ok terzo ok possiamo ottenere una cosa del genere ora immaginate di concatenarli tutti quanti e fare che ne so una parte a livello di rotazione con tutti questi elementi è una roba diciamo molto molto più figa e ci permette di fare veramente cose davvero interessanti a quel punto basta soltanto un po' capire come funzionano e cercare di sperimentare il più possibile quindi questo è tutto per quanto riguarda il wire glitch in alcuni il reverse wire glitch in alcuni casi può capitare di avere degli effetti non indesiderati per esempio se io andassi a togliere questo oggetto qua in alcuni casi può capitare che l'oggetto concatenato sotto scompaia anch'esso vediamo se in alcune volte lo fa no qua non lo fa però in alcuni casi può capitare ecco per esempio è scomparso anche la lampada perché sono proprio miscelati all'interno e quindi potrebbe succedere una cosa del genere quindi bisogna tenerla a mente che può succedere una cosa del genere un'altra cosa al volo da notare che questo elemento qua fondamentalmente anche se punta verso la parte sinistra fondamentalmente l'oggetto è sempre dal basso verso l'alto quindi questo diciamo in questo caso specifico la posizione della lucina non va a intralciare la posizione del glitch quindi non avremmo un glitch diciamo sulla destra ma lo avremmo nella parte superiore proprio perché in realtà questo oggetto sta sulla parte superiore so che è una cosa un pochettino ostica da percepire è un po' particolare però funziona funziona così invece questo è nella parte inferiore e quindi rispetta quella regola è una cosa che è stata scoperta pian piano questa cosa qua quindi spero che vi sia stato utile come come tutorial e come al solito se avete commenti perplessità scrivetemi oppure venitemi a trovare sul canale Twitch lo lascio anche quello in descrizione e vi aspetto nel prossimo video che parlerà di farm che me lo state chiedendo di farm quindi produzione di attivato eccetera eccetera come ottimizzarle come farle da A alla Z come andare a cercare determinati giacimenti eccetera eccetera quindi lasciate un like e un commento se vi va ciao belli